Antonella Picello, la commercialista padovana esperta sub morte in Sardegna a largo dell'isola di Caprera durante un'immersione, sarebbe deceduta per un arresto cardiaco provocato da un'embolia polmonare. Questa è la causa, secondo il medico, che per primo ha ispezionato il corpo della donna, ma a chiarire le cause della tragedia sarà solo l'autopsia disposta dalla procura che ha aperto un'indagine, secondo quanto riporta un quotidiano locale. Si vuole infatti capire se Antonella Picello sia morta in seguito ad un malore o per il malfunzionamento dell'attrezzatura con cui si è immersa e che lei era stata assegnata dalla struttura di diving che la famiglia padovana aveva scelto per la loro ultima escursione in Sardegna prima del rientro a casa. Antonella, mentre era sott'acqua, aveva allertato istruttore e compagni di immersione, faceva fatica a respirare. Subito è iniziata l'operazione di risalita e l'istruttore ha tentato di prestarle soccorso nell'attesa dell'arrivo del medico, calato dall'alto con un elicottero, ma la donna all'arrivo del 118 era già morta. Ora si attende il via libera dopo l'autopsia per far rientrare la salma a Padova dove verranno celebrati i funerali.